benvenuti e bentornati al spazio con pillole di spa oggi voglio parlarvi di una chicca particolare che spesso mi trovo in camera quando arrivo in hotel ma prima voglio invitarvi a mettere un like se questo video vi è piaciuto a cliccare sulla campanellina per iscrivervi al canale di wellness 56 likes e rimanere sempre aggiornati sui video della settimana andiamo noi la scatola all'interno contiene dei desideri vale a dire che ogni persona che decide di andare in una spa in una determinata spa si troverà questa scatola dei desideri dove estrarrà dei voucher all'interno di questi voucher potreste trovare di tutto vale a dire potreste trovare un trattamento un massaggio un percorso a secondo magari quello che potrebbe essere la vostra idea di wellness perché ognuno di noi sappiamo bene che ha dei desideri diversi delle esigenze differenti e allora visto che avendola provata in spa con gli ospiti che sono diciamo venuti a trovarci per la prima volta ho avuto un modo anche di farla trovare direttamente in camera in hotel cos'è successo la coppia che si è ritrovata ad entrare in camera ha trovato una scatola questa scatola all'interno ha un biglietto cosa ci sarà all'interno della scatola solitamente noi mettiamo un biglietto differente questo tipo di regalo è sempre stato molto gradito ecco perché io vi dico perché non pensate di segnare sotto questo video i vostri desideri e magari vi indico quale sarà l'hotel che potrebbe riservarvi la sorpresa adatta a voi e chi lo sa magari poi è anche una sorpresa gradita grazie a tutti grazie a tutti